Microsoft ha acquistato la società produttrice e distributrice di videogiochi Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, ottenendo l'accesso a giochi di successo come Call of Duty e Candy Crush. Per effetto di questa acquisizione diventerà il terzo colosso mondiale di videogiochi per ricavi, dopo Tencent e Sony. Il gioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi, scrive l'amministratore delegato, e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme Metaverse. Stiamo investendo in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco. L'operazione, che verrà conclusa interamente in contanti, è stata approvata dai consigli di amministrazione di ambedue le società. Microsoft mette così a segno la più grande acquisizione della sua storia, inglobando Activision, al centro di un risonante caso di molestie sessuali a causa dei condotti interne di alcuni dipendenti.